Quella che vedete alle mie spalle è la strada di accesso dalla Statale 113 a Contrada Farcò, dove si trova la villetta dove il sabato scorso sono stati trovati i corpi senza vita di Alessandra Molli, che ha 14 anni, e sua madre, Mariolina Nigrelli. Su quanto accaduto sta indagando la Procura della Repubblica di Patti, coordinata dal procuratore Angelo Cavallo. L'area è stata posta sotto sequestro, così come sotto sequestro sono stati posti i telefoni delle due donne e anche la lettera che è stata trovata sul luogo del ritrovamento dei due cadaveri, che sembra essere manoscritta dalla stessa Mariolina. Al momento l'ipotesi più accreditata, la pista più accreditata per ricostruire i fatti accaduti, sembra essere quella dell'omicidio o suicidio, ma è chiaro che il quadro probatorio va approfondito nelle opportuni sedi. La tragedia che ha provato è segnato il tessuto sociale della nostra comunità. È provato e segnato non solo dal punto di vista del dolore, ma anche per ciò che rappresenta una tragedia come quella che si è consumata. Cioè è un momento di debolezza, un momento sicuramente di criticità, rispetto al quale una comunità ha il dovere di interrogarsi e capire ciò che bisogna fare, perché non sono stati colti alcuni segnali di disagio, di fragilità, e cosa soprattutto fare per evitare che in futuro abbiano a ripetersi tristemente episodi come quelli avvenuti. Credo che adesso deve valere per tutti una regola, che è quella del silenzio, del rispetto del dolore altrui. Sicuramente non è il momento in cui bisogna lasciare spazio ad aspiranti criminologi o gente che si candida a diventare investigatore per caso. Noi abbiamo la fortuna di avere due istituzioni di eccellenza, la procura di patti con a capo il suo procuratore e la compagnia dei carabinieri, con a capo i suoi ufficiali e sotto ufficiali, e quindi ci affidiamo con fiducia, con certezza al loro operato, sapendo che da professionisti di altissimo livello quali sono, sapranno ricomporre un quadro d'insieme che riconsegnerà a noi, alla comunità, alla sua famiglia, agli stefanesi una verità dei fatti accaduti.